buongiorno a tutti oggi andremo a recensire e in qualche modo a fare una piccola modifica perché già conosciamo queste torce a queste torce che ci sono in commercio per adesso sono delle torce diciamo molto potenti ma abbastanza economiche subacquee loro le garantiscono fino a 80 metri e sono veramente subacque sono resistenti e la luce è potentissimo differenza tra queste torce questo è per esempio un modello tra gli ultimi quello cobb che è molto potente la luce molto più calda a 5600 kelvin mentre questo è pure molto potente però alla luce molto più effetta circa sui 6.000 non so 6.500 molto bianca per fotografia subacquea meglio questa questa di qua cobb ha pure un raggio di un angolo di un fascio di luce di angolazione più stretto quindi un po più puntato questo è completamente ampio e si vede pure dal punto dallo spessore qui il vetro è piatto qui hanno fatto il vetro bombato per fare appunto questa lente concentrare tutta la luce più al centro sono delle torce fantastiche molto belle l'unico difetto che ho riscontrato è che dopo circa un annetto loro ti garantisco ti danno quando le compri ti hanno un fogliettino e tu ti dicono di comunque pulirle con detergenti pulire ingrassare tutto quanto lo puoi fare benissimo ma purtroppo hanno un difetto queste economiche che variano come prezzo dai 40 ai 100 euro dipende il venditore dipende la quantità di di torce che acquistano hanno questo difetto che vi faccio vedere questi sono dei pulsanti che io ho tolto da delle torce precedenti il pulsante è praticamente loro dicono che la torcia è in alluminio annotizzato e in effetti lo è ma il pulsante è in alluminio normalissimo e purtroppo si sa l'alluminio normale si ossida che succede quando si ossida succede questo non so se si vede praticamente si si forma praticamente una polverina bianca sulla superficie l'ossido appunto dell'alluminio quest'ossido va a in qualche modo piano piano con il tempo a insinuarsi nella guarnizione e da lì entra l'acqua quindi da questo pulsante praticamente per quanto tu puoi sciacquare bene questa è proprio nuova quindi si vede ancora non modificata pulsante completamente chiuso e per quanto la puoi sciacquare comunque l'acqua all'interno sta possono andare oltre a una certa durata la prima la mia prima torcia mi è durata circa due anni ma non facendo troppe immersioni facendone abbastanza diciamo che secondo me variano dai sei mesi a un anno queste torce un peccato perché sono fatte bene la luce è molto potente c'è niente da invidiare a quelle uguali a queste uguali di marca l'unica cosa che secondo me differisce tra questa e quella di marca che ce ne sono varie che secondo me la stessa fabbrica che li produce appunto è il pulsante è da qui che entra l'acqua noi oggi andremo a fare questa modifica quindi da questa torcia noi andiamo io qua già l'avevo fatta la modifica andiamo a sostituire il pulsante mettendone uno bellissimo in acciaio quindi comunque si va sempre sciacquato ma non c'è il rischio che ossidandosi vada a formare appunto questa polverina all'ossido che approssimo a immersione appena io vado per accendere materialmente mi fa entrare l'acqua anche perché sotto questo pulsante adesso lo vedremo sotto questo pulsante c'è già un circuito stampato che serve a gestire questo pulsante perché come si vede questo pulsante fa più funzioni come intensità e questo ti dà le luci ti dà la possibilità di mettere la luce rossa la luce lampeggiante la luce blu o ultravioletta che sia e spegnerla quindi comunque il pulsante è già un circuito poi all'interno sotto il led ci sono non è altro pure lui che un altro circuito stampato e l'altro circuito stampato è qui il contatto la batteria sopra e sotto quindi è molto elettronica giustamente perché deve andare a gestire questi potentissimi led una volta che entra l'acqua non c'è niente da fare non ci sono pezzi da sostituire si possono soltanto cambiare se si trovano su internet e le componenti interne le schede ma già andiamo sul smontarla tutta parliamo di elettronica insomma un po' più complesse io ad evitare questo sono andato direttamente a sostituire questi pulsanti con dei pulsanti in acciaio e non solo il difetto sta sul pulsante che non è in alluminio annotizzato ma anche sulle gaffette piccoline che tengono questa questa torcia che sono fatte queste gaffette che sono fatte non anch'esse in materiale inossidabile ma sono fatte di ferro che vuoi o non vuoi anche se non prendono acqua perché questa è una parte che va già dentro dove c'è il pulsantiera comunque con la condensa quindi la sola umidità si arrugginisce è ferro quindi con chi ho parlato con subacue e amici gente che li ha utilizzate in acqua dicono tutte ma a un certo punto questa torcia ti spara via il pulsante e si allaga è dovuto a questa gaffetta che è di ferro quindi una volta che anche se ti garantiscono che la devi lavare e sciacquare per ovviamente una questione di responsabilità comunque è una cosa che si ossidera c'è poco da fare queste gaffette per come si ossideranno questi pulsanti che noi abbiamo tolto è sostituito con questi pulsanti in acciaio che non troverete su internet se cercate questi pulsanti io sto chiedendo in giro magari a chi li vende se riesce magari a mettersi in contatto con l'azienda ma non li metteranno in rete questi pulsanti perché non gli conviene ho semplicemente io preso dei scafandrini subacuei di varie marche e modelli insomma così non ho fatto altro che togliere i pulsantini di comando di queste scafandri per action cam questi pulsanti e andarli a sostituire con quelli in alluminio che si possono trovare questi di qua questa proprio che in mano è uno scafandro per action cam molto economiche cioè ma proprio molto economiche acquistate su questi portali dove tu acquisti praticamente direttamente in Cina ti arrivano le cose dopo un mese e passa pure però molto economica infatti non vi chiedete diciamo la macchina interna è andata perché proprio la qualità non era il massimo ma lo scafandro comunque ha dei pulsanti che hanno all'interno delle gaffette in acciaio le guarnizioni sono comunque buone vanno benissimo e il pulsante è pure in acciaio noi questo pulsante lo prenderemo e lo andremo a sostituire a questa torcia dandogli non so quantificare la tempistica della durata perché comunque purtroppo l'acqua si sta camminando camminando entra sempre ma penso di prolungarla più di un annetto quindi poi ora andremo a vedere come appunto si aprono questi pulsanti come andremo a sostituire nel caso le modifiche adesso vi faccio pure vedere su un muro vediamo se riesco a iniziare a fare buio nel mio giardino il fascio di luce la differenza di colore e di fascio di luce tra queste due torce questa di qua che è quella COB è questa che ha 6 led xm2 credo non sono un esperto di led comunque sono 6 led dove all'interno di ogni led ce ne sono ben 7 una bomba di... sono delle bombe di torce hanno una luce potentissima l'unico difetto è questo pulsante oggi andremo a vedere appunto sia la qualità e la resa luminosa di queste torce che vanno usate secondo me solo sott'acqua perché si surriscaldano si rovinano le guarnizioni surriscaldandosi e in più se queste di qua voi le lasciate tipo io la lascio qui sulla tovaglia e per caso anche sfiorandola soltanto questa si accende ti va a sciogliere la cerata legno, stoffa, cotone che sia creando incendi perché la potenza di queste luci comunque di surriscald è veramente tanta sia queste modificate da quelle che ho modificato io è molto più sensibile adesso purtroppo ma anche queste di qua mettendoli in valigia se tu le posi le poggi purtroppo loro solo poggiandole si accendono quindi vanno sempre trasportate senza batterie oppure mettergli una pezzetta un foglio di carta isolante una carta cerata una carta da forno non so sopra il contatto positivo in modo da non farle funzionare solo questa cortezza bisogna avere adesso andiamo a vedere la potenza luminosa e successivamente vi faccio vedere la modifica che ho fatto io per cambiare questo bottone questo pulsante dandogli la possibilità di avere un po' più di durata un po' più di vita che è veramente una bella torcia ok allora siamo nel giardino di casa mia andremo a fare il primo test sono i meccanici che partono sentono rumori e partono e andiamo a fare il primo test su quella appena modificata quella con il led non si vede sì il led cobb andiamo a provare l'intensità luminosa vi faccio vedere la profondità del terreno sperando che non dà fastidio ai vicini perché fa veramente tanta luce esatto come si può vedere la luce cobb è una luce più calda e illumina veramente i muri dei miei vicini come si può vedere la luce è veramente potente questa è quella cobb adesso andiamo a provare quella con lo raggio più largo anche questa molto potente come si vede bene però ha un fascio più ampio c'è proprio l'accendi e niente ti illumina pure lateralmente la torcia è messa qui il raggio mi arriva fino là sotto illuminandomi la casa del mio vicino di casa che diciamo la distanza c'è questa è la potenza massima e questa è la potenza di queste luci e allora andiamo innanzitutto a togliere a estrarre questi pulsanti dallo scafandro spero che si vada bene semplicemente andando a togliere la caffetta interna e uno perfetto la mettiamo qui per non perderla andiamo a togliere il tab finito così esatto qui abbiamo appunto le guarnizioni di tenuta del pulsante il pulsante con la molla questo è un pulsante andiamo all'altro qui c'è l'altra caffetta andiamo a spingere il pulsante mettiamo fuori la nostra guarnizione ok abbiamo tolto due pulsanti che andremo a mettere nella nostra torcia aprite il bottone come meglio credete con gli attestiti come meglio credete io mi sono un po' aiutato sinceramente in primo con le forbici perché sono più appuntite ma se avete una chiave così a compasso magari con delle punte un po' più sottili potete benissimo inserirle qui appunto lateralmente a misura in questo modo e con un po' di pressione costante e continua andiamo a girare per svitare il nostro pulsante esatto stessa cosa qui andiamo a non l'ho preso bene ok andiamo a girare ok è ammollato fate attenzione nello svitare questi pulsanti perché sono in plastica o comunque plexiglass non so che materiale trasparente per far vedere appunto i led e le luci quindi una volta che si rompe la plastica fatevi conto che la plastica tiene la guarnizione di tenuta se si lesiona la plastica il pulsante lo potete andare a buttare praticamente quindi fate attenzione quindi togliamo questo pulsante tutto intero abbiamo qui la gaffetta che vi dicevo io in ferro e il pulsante in alluminio non annotizzato con una sola guarnizione di tenuta che però tiene abbastanza l'importante è che purtroppo non si polverizzi qui dentro l'alluminio sotto non abbiamo altro che una membrana che serve appunto a contenere l'umidità che può fare comunque il pulsante non per l'accesso dell'acqua ma solo per l'umidità e sotto abbiamo appunto il circuito stampato con l'interruttore e il pulsantino per accendere e spegnere noi non toccheremo perché non serve toccare questa cosa andiamo a rimettere tutto in posizione nella sua sede ok e niente svitiamo pure il secondo che è mollato svitiamo il secondo pulsante al momento andiamo a mettere la torcia da parte non ci servirà per adesso noi adesso andiamo a verificare perché è sempre con pulsanti nuovi realmente il diametro del pulsante questo ha un certo diametro quello suo originale molto più sottile non so se si vede il paragone è più piccolino quindi che succede per far inserire questo pulsante in questa plastica bisognerà forare un pochettino allargare il buco del pulsante cercando di fare in maniera più precisa possibile ma non sarà il pulsante a fare la tenuta dell'acqua ma sarà la superficie di battitura della guarnizione quindi andiamo a fare questo questo foro e se una volta perché dipende ripeto dal tipo di pulsante che riuscite a capitare se vedete che magari è un po' più lungo perché come vedete qui la la gaffetta di metallo di ferro è praticamente quasi sulla punta del pulsante perché lui fa piccoli movimenti per accendere spegne veramente piccoli quindi se vedete che tra la tra l'alloggio della gaffetta vediamo se qua si vede esatto l'alloggio della gaffetta che sarebbe quella scanalatura e la punta già c'è uno spessore eccessivo e dovete un po' o limarlo delicatamente o con un flex non so con una lima con una molla in qualche modo andarlo a limare per portarlo il più vicino possibile diciamo dalla punta e la scanalatura della della gaffetta questa è una cosa importante perché se va troppo in profondità rompete il pulsante della della torcia se invece magari come ho fatto nella mia prima modifica non è troppo non è abbastanza vicino ma c'è come questa un po' di spessorino in più succede che appena sfiorate il pulsante lei già fa il contatto solo questa è la differenza che vi può apportare però vi ripeto di solito questi in acciaio hanno uno spessore più grosso rispetto a questi in alluminio che sono veramente sottili quindi comunque andremo ad allargarlo e andiamo a mettere poi il nostro pulsante quindi toglieremo questo opaco in alluminio e metteremo questo lucido in acciaio ok adesso andiamo ad allargare questa è la parte di sopra che cercheremo di non lesionare perché appunto c'è la battitura della guarnizione quindi andiamo a furare da sotto in modo da portare in caso piccoli spessori diciamo non al di fuori non andando a toccare appunto la battitura abbiamo scelto la punta del trapano che praticamente è molto piccola andiamo a poggiare e fare piccoli movimenti è plastica quindi si fora subito andiamo a pulire da plastica in eccesso fuori sembra perfetto si andiamo a prendere il nostro pulsante che abbiamo recuperato dallo scafondrino e andiamo ad inserirlo ok perfetto adesso andiamo a inserire il nuovo pulsante ok adesso il pulsante ritorna andiamo a vedere un po' la battitura è un po' esposta ma non eccessivamente vediamo se materialmente funziona bene o se vediamo che è troppo che già schiaccia solo diciamo avvitando il pulsante già da il contatto allora andremo a limare successivamente al solito schiacciamo un po' facciamo uscire l'alloggio e inseriamo la nostra caffetta ok il primo pulsante è fatto andiamo ad affare il secondo il sistema del secondo se ancora si deve aprire addirittura adesso andiamo a mettere qua questa moschetta che non ci serve è il pulsante lo possiamo pure mettere da porta non ci servirà più andiamo a togliere pure la sua guarnizione originale perché la sua guarnizione cammina e ovviamente ripasso con lo spessore del pulsante interno quindi non andiamo a mettere la guarnizione di fabbrica del pulsante che non andiamo a mettere andiamo a sostituire altrimenti rischiamo di avere un accesso d'acqua tirato fuori tutti gli accessi di plastica andiamo a inserire il nostro pulsante anche questa volta è un po' duretto ok lo andiamo sempre al solito ad allargare delicatamente e per me delicatamente una parola ok tutti gli accessi pure qua riproviamo di inserire perfetto pulsante entra e ritorna perfettissimo anche qui andiamo a mettere la sua gaffetta originale ok il pulsante si schiaccia si muove e non ritorna vediamo aspetta vado a prendere prima un po' di grasso siliconico e non approfitto che è aperto per mettere un po' di grasso all'interno ok abbiamo chiuso abbiamo messo un po' di grasso abbiamo chiuso tutto non stavo lì a farvelo vedere perché si sa come si mette un po' di grasso e si andate a chiudere fino a fine battuta ho inserito già le batterie adesso due torce con pulsanti sostituiti in base ai pulsanti che riuscite a trovare sono più sensibili la cosa carina di questo pulsante rispetto a questo che ho trovato precedentemente questo è un po' più rialzato quindi basta toccarlo lateralmente che lui proprio sfiorando si accende e questo invece essendo più corto diciamo non fuoriesce dalla plastica passando non si accende bisogna toccarlo un po' all'interno e lui fa così sono vari colori rosso blu certo non è diventato un po' più sensibile perché ripeto si parla di millimetri andrebbe fatto magari da un po' più esperto la distanza che c'è tra il pulsantino e poi anche perché loro hanno fatto questi pulsanti così piccoli con un ago così piccolo perché in realtà il pulsantino l'interruttore interno che va a scendere e spegnere è veramente veramente piccolo quindi questo proprio va a toccare il pulsantino questa avendo una testa più larga diciamo si confonde un po' nella nella gomma quindi premendo magari ecco questa cosa ha funzionato però dico non va premuto forte basta sfiorarlo la vibrazione già io le ho usate pure in acqua le ho portate l'ultima volta sui 35 metri ma scendono tranquillamente pure vi dico 45 per legge comunque a 45 metri chi vuole andare a 50 60 oltre diciamo con altre cose va bene pure non mi hanno dato problemi quindi io questa già l'ho testata in acqua e non mi ha dato problemi l'unica cosa appunto avendo questa sensibilità maggiore per chi vuole tenerle sempre accese ecco magari può capitare che tra uno sbalzo di pressione cioè tra un che so dai 20 ai 30 metri dai 30 ai 35 40 che sia nello sbalzo appunto di pressione la pressione dell'acqua che va appunto a comprimere su tutta la torcia in qualche modo vesco molto sensibile fa toccare quel pulsante quindi non può capitare che si spenga non vuol dire che sia allagato basta semplicemente ritoccarlo e lui si accende e quindi queste sono le mie torce adesso diciamo queste economiche super potentissime le IPX8 così chiamate con questo ho riscontrato questo difetto del pulsante che si ossidava adesso l'ho tolto questo in alluminio sostituendolo con dei pulsanti di recupero di scafande di action cam che sono fatti comunque in acciaio dando la possibilità a queste torce di durare un po' più un po' più di tempo che